Quanto costa costruire un mazzo top tier se si vuole essere competitivi nei TCG più famosi e giocati al mondo? Quale sarà il range di prezzo che rappresenterà ogni gioco? E quanto a lungo potrà essere preso in esame il valore che sarà indicato per ogni GCC? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Da quando il TCG di One Piece ha fatto il suo debutto sul mercato con le diverse evoluzioni a livello di prezzo, una domanda mi è stata spesso posta. Mamma mia quanto costa un deck di One Piece, 300 o 400 euro sono troppi per costruire un deck da zero, costa davvero molto approcciarsi a questo gioco. Ebbene calcolando che è da lontano 95 che sbusto o gioco cose, ho assistito in prima persona alle diverse evoluzioni di mercato che hanno portato titoli davvero intriganti morti purtroppo da un anno all'altro, almeno qui in Italia, come il meraviglioso Duel Monsters o il TCG di World of Warcraft assassinato dal fratello digitale Airstone, a possedere carte di valore molto elevato, impostando così delle barriere di ingresso alte difficilmente affrontabili da un novizio incuriosito dalle dinamiche di quello specifico GCC. Ovviamente si farà una media di costo, così da fornire uno spettro quanto più ampio possibile che potrà tornare utile ad ogni appassionato che vorrà approcciare le dinamiche di un determinato gioco. In questo video quindi andremo a rispondere alla domanda che vede One Piece, nella credenza, come marchio costoso tra i più costosi in mercato, mettendolo a paragone con altri titoli già presenti da decadi come i grandi tre, Magic Pokémon e Yugi, e i fratelli minori rappresentati da Dragon Ball Super Fusion World, Flash and Blood e l'Orkana. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la top 6 dei TCG che possiederanno i deck più costosi presenti in mercato. Andiamo a dargli un'occhiata. Sesto posto per Pokémon. Già, uno dei più famosi TCG attualmente esistenti sulla faccia della Terra vede un deck competitivo partire da un minimo di 30€ fino ad un massimo di 120, dipende ovviamente dai Pokémon e dall'archetipo che si deciderà di utilizzare. Perché quindi un deck di fascia alta viene a costare di media 75€, perché il titolo nipponico ha una forte componente collezionistica e quindi è conosciuto principalmente per quell'aspetto, talmente tanto da avere anche nello slogan un fattore di raccolta totalizzante. Acchiappali tutti. Quindi se vorrete iniziare a testare le dinamiche che vedono i mostriciattoli tascabili esserne protagonisti, ci saranno mazzi diversi che sposeranno esigenze diverse. Quinto posto per Dragon Ball Super Fusion World. Il gioco rivisitato della Bandai sulla base del Masters vede una media che uscilla attorno ai 175€, che per un titolo che comunque si trova alle prime armi non è poco, calcolando che non sono stati pubblicati al momento molti set. Siamo ancora al primo, intitolato Awaken Pulse, assieme ai 4 starter, che presto vedranno nuovi arrivi che arricchiranno il ventaglio di scelte possibili assieme all'espansione Blazing Aura, prevista per questo maggio. Quindi sì, al momento è al quinto posto, ma con l'avanzare degli anni, se sopravvivrà anche alle oscillazioni di interesse e mercato, di certo la cifra media potrà registrare un aumento, permettendo così ai guerrieri Z di scalare la classifica di costo in futuro. Quarto posto pari merito per One Piece e Yu-Gi-Oh! Ebbene, sì, il TCG che si crede costi molto si piazza in realtà nel parterre, avendo prezzi che si aggirano attorno ai 400€ di media, dipende dal leader che deciderete di utilizzare, ad esempio per Sagazuki ed Enel, top tier, al momento il prezzo sarà quello. Ovviamente, tenendo conto che arriveranno anche le ristampe a breve e tutto il nuovo materiale che è stato annunciato, cambieranno sia la tier che di conseguenza i prezzi, che magari caleranno o aumenteranno? Chissà, ma al momento il gioco della Bandai si piazza saldo al quarto posto. Anche per il TCG creato dal maestro Takahashi ci saranno deck che si aggireranno attorno ai 300-400€ di media. Qui saranno gli archetipi a costare molto, ma il discorso per il titolo in questione richiederà tempo per poter essere trattato e ovviamente non sarà questo il contenuto dove verrà preso in considerazione tale aspetto. Personalmente comunque gioco GOT, quindi se vorrete divertirvi spendendo poco, ripercorrendo anche i tempi nostalgici di questo meraviglioso GCC, questo sarà il formato che farà per voi. Terzo posto per Flash & Blood Per il titolo di casa Legend Story Studios dovrete pagare un biglietto di entrata nell'arena di circa 425€ di media. Infatti, per utilizzare i campioni più rappresentativi della tier, la cifra sarà quella. Fab comunque resta al momento uno dei titoli più accattivanti del palcoscenico mondiale, avendo rinnovato a modo suo le dinamiche dei classici TCG, facendo vestire a tutti gli appassionati, letteralmente, le vesti dei campioni presenti in gioco. Calcolando poi la dinamica della Living Legend, che vede un eroe ruotare fuori dal formato una volta raggiunto un certo punteggio accumulato torneo dopo torneo, i prezzi subiranno ovviamente un bilanciamento e quindi bisognerà tenere conto anche di questo fattore per non costruire un deck che poi risulterà inutilizzabile nel meta. Secondo posto per l'Orcana Il TCG di casa Disney prende la medaglia d'argento e allo stesso tempo si piazza al primo posto ipotetico come gioco dal rapporto tempo-barriere di ingresso più svantaggioso. Introdotto in mercato nel 2023 con tre set alle spalle ed il quarto in arrivo, il gioco distribuito dal Ravensburger ha visto un prezzo delle singole, o per meglio dire determinate singole, salire alle stelle restando stabili. Infatti per accedere alle dinamiche di questo GCC dovrete spendere di media 550 euro, che per molti curiosi è sembrata una cifra assurda tenendo conto della componente collezionistica che, anche qui, come per Pokémon, conta una grande fetta di appassionati. Ma nonostante ciò la casa madre sta lavorando ad articoli innovativi che stuzzicheranno l'attenzione di molti nuovi Luminar, che sono certo troveranno pane per i loro denti, approcciando nel migliore dei modi questo fantastico ed intuitivo gioco di carte collezionabili. Primo posto per Magic the Gathering Primo in assoluto come pubblicazione nei nostri cuori e anche a livello di costo per i deck più performanti in meta. Infatti se vorrete approcciare questo incredibile TCG sappiate che di media dovrete spendere 600 euro. E ci sta, calcolando che nonostante esistano carte davvero molto costose per il gioiello ideato da Richard Garfield, una cifra come quella indicata risulterà anche piuttosto bassa, dati gli standard di vendita di alcuni elementi estremamente ricercati. Prima di concludere volevo farvi presente che tutti i prezzi che sono stati indicati nel video risulteranno approssimativi e potranno cambiare con il tempo. In più sono stati presi in esame solamente mazzi presenti nel formato standard dei rispettivi TCG. Quindi fatta una panoramica di costi per ogni gioco di carte collezionabile che mi è venuto in mente, abbiamo visto come One Piece in realtà risulti uno dei meno cari, addirittura alla pari di Yugi che mi aspettavo francamente più costoso. Resta il fatto che comunque, lo ripetiamo, diversi fattori potranno influire sull'andamento dei prezzi futuri e chissà se un giorno questa classifica non cambierà drasticamente vedendo il GCC basato sulle avventure di cappello di paglia e compagni dominare solitario la vetta. Staremo a vedere. E voi avete altri titoli da suggerire con i relativi costi di accesso? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere state in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.